4 mesi fa ho fatto il video su Hyperverse e dicevo che era una truffa mentre una settimana fa dicevo che Hyperverse aveva problemi di prelievo e oggi ancora una volta spero sia l'ultimo video riguardo Hyperverse dove vi dico che stanno chiudendo, ve l'avevo avvisato, vi avevo detto che c'era questa possibilità e ad oggi abbiamo tantissime novità riguardo Hyperverse veramente molto molto triste per chi è entrato all'interno di questa piattaforma e adesso andiamo a vederle subito questo è l'articolo di Gazzetta Diretta che parla principalmente di schemi piramidali dove oggi andiamo a parlare di Hyperverse e possiamo notare qui il canale telegram ufficiale Hyperverse praticamente è stato chiuso quindi il canale ufficiale è stato chiuso le persone che erano all'interno del canale ormai sono fuori quindi non esiste più questo canale abbiamo quattro punti chiave dove praticamente i creatori di Hyperverse Sam Lee e Ryan sono spariti da almeno dicembre 2021 inoltre sono stati pagati due attori per dare il viso ai truffatori principali e quindi in realtà le persone che abbiamo visto con la loro faccia erano solo degli attori pagati per apparire su Hyperverse il blocco dei prelievi inoltre non è un evento insomma solo per alcune persone ma in realtà sappiamo benissimo che ormai quasi tutti i conti sono bloccati non riescono più a prelevare ecco questo è il messaggio che hanno inviato nel gruppo telegram di Hyperverse ufficiale questo è il messaggio e lo screenshot praticamente di quello che hanno inviato oggi questo è il messaggio tradotto inviato in forma ufficiale nel canale telegram di Hyperverse vi voglio leggere solo la parte finale in ogni caso vi lascio lo screenshot ufficiale e vi scrivo anche tutto nella descrizione nei commenti ma voglio leggervi in particolare per non farla troppo per le lunghe questa riga vi sentite a vostro agio nel dare ancora più usdt a una società che non si fa vedere che non comunica per mesi i prelevi falliti che lancia nuovi prodotti e nuove aziende senza affrontare i problemi reali che non sono mai stati risolti sarò onesto e questo voglio che sia l'ultimo video sul mio canale di Hyperverse sarà il terzo e sarà l'ultimo perché qui ormai siamo alla fine i canali telegram iniziano a sparire le persone ormai stanno capendo finalmente che è stato tutto uno schema ponzi cosa che avevo già detto io ma ovviamente non l'avevo detto solo io c'erano tantissime persone che lo affermavano ma moltissime moltissime persone hanno ignorato questo aspetto e hanno comunque voluto entrare in Hyperverse e adesso si ritrovano in queste condizioni quindi con soldi persi soldi che non possono prelevare e soldi che ormai sono spariti e sono andati in mano a dei truffatori hanno preso milioni e milioni di dollari ogni mese si stima che erano circa 4 milioni di dollari al mese che riuscirono ad incassare quindi insomma mi dispiace molto per le persone che ci hanno creduto e che non sono riusciti a capire fino alla fine che effettivamente era uno schema ponzi ma per chi magari era evidente per altri sembrava veramente una piattaforma incredibile questo lo posso capire ma dovevate ascoltare chi vi dava dei consigli chi sembrava sicuro di dirvi che era realmente una truffa e uno schema ponzi e a quanto pare non tutti hanno voluto ascoltare anzi tuttavia nei miei primi video nei miei video precedenti mi avete quasi insultato perché poi avevo detto che Hyperverse era una truffa ma a quanto pare è stato proprio così se volete restare sempre aggiornati e magari chiedermi anche dei consigli su nuove piattaforme per evitare di perdere i propri soldi vi invito a iscrivervi al mio canale in modo da restare in contatto e assolutamente restare sempre aggiornati ci vediamo presto in un prossimo video ciao ragazzi